Benvenuti in questa nuova puntata di Deepin, io sono Zap, io sono Palla, in uno stage un po' come dire, retro, un po' vecchio stile, come i primissimi giorni, siamo tornati con Palla nella sua postazione casalinga col vecchio Mac e tutto quanto, e oggi facciamo incontro luce, però manca Lucia coi piatti. No, sì, perché Lucia sta guardando una serie tv in questo momento, quindi è molto concentrata, ma vediamo dopo, sicuramente dopo un piatto lo spacca, se qualcuno lo chiede, se qualcuno lo chiede, un bicchiere. Attenzione perché Gianluca Cuccato entra subito nel deep dell'argomento di oggi, facciamo una puntata infatti un po' strana, non era prevista questa puntata, in realtà Palla mi ha detto voleva fare una pausa da crimine, allora ho detto vabbè, allora cogliamo la palla al balzo. E stasera dobbiamo parlare di un paio di cose, una cosa molto importante sono i gruppi Telegram, Palla vuoi dire qualcosa di interessante a proposito dei nostri gruppi Telegram? Che chiudiamo Telegram, ma è già chiuso in questo momento, mi sono perso un secondo sul timing, in questo momento è aperto o chiuso? In questo istante è già chiuso, cioè il gruppo non è chiuso, è aperto, quindi se lo cercate lo trovate, ma nessuno a parte gli admin possono scrivere. Infatti perché io potevo scrivere, ma giustamente mi sa che sono admin o forse addirittura proprietario, quindi sono uno che sposta. Però sì, l'abbiamo chiuso, cioè chiuso, abbiamo impedito al pubblico, al gentil pubblico di scrivere per tutta una serie di ragioni che adesso vi andremo a esporre. Questo non vuol dire che ci siamo messi sull'Olimpo e che non possiamo essere contattati, anzi, ma che diciamo che il gruppo era diventato qualcosa che non più tanto A ci rappresentava, B ci piaceva, C aveva un senso per una realtà come la nostra in espansione, ma che deve anche un po' canalizzare i flussi di persone, di commenti, di interazioni, deve un po' canalizzarli e capire dove è meglio portarli. Ecco, Telegram che canalizzava tantissime interazioni, discussioni, che non vogliamo che si perdano, ma vogliamo semplicemente un pochettino deviarle verso altri lidi. Sì, deviarle e un po' anche moderarle, perché ormai eravamo diventati nel gruppo 2300 persone. 300. Esatto, iniziano ad essere un po' tanto numerose e insomma da un lato c'era la possibilità di o limitare il numero di messaggi da poter mandare o creare delle sotto chat di sotto chat o creare degli argomenti, ma il punto è che appunto in realtà abbiamo già degli altri strumenti di comunicazione, quale Instagram, quale i commenti di YouTube e su Instagram se ci seguete sapete benissimo che sulle nostre storie utilizziamo insomma le storie Instagram per tenervi aggiornato esattamente come facevamo su Telegram e lì sotto nel feed di Instagram trovate insomma tutti i vari post delle varie puntate di crimini e scienza eccetera eccetera, di giallo eccetera eccetera. E quindi tanto valeva utilizzare quelli, cioè per noi avere il gruppo Telegram è un lavoro doppio se non triplo perché non solo dobbiamo creare il post di Instagram, non solo dobbiamo fare la puntata, crearci il post di Instagram ma poi nuovamente avremmo dovuto creare anche il post di Telegram identico a quello di Instagram per poi perdere tutto l'engagement oltretutto relativo a quell'argomento. E quindi a questo punto Telegram che è stato un grande nostro supporto mediatico, se si può dire così, a questo punto non ha molto senso di esistere. Quindi tutto quello che è stato Telegram finora vorremmo che venga trasposto su altri canali, quali Instagram e YouTube, perché per diversi motivi. Oltretutto Telegram, come vi dicevamo prima, ormai siamo tantissimi, quindi centinaia di messaggi al giorno e per quanto è vero che ci possiamo affidare al buon cuore di chi scrive, avevamo già tolto la possibilità di mandare media e link per limitare al massimo i possibili materiali fraudolenti o strani o illegali o che comunque volevamo evitare di avere sul gruppo dato che comunque parlando di crimini, insomma, non volevamo che il gruppo di pencrimini diventasse poi una cartella di foto di cadaveri, insomma, o robe di questo genere, perché va bene parlarne, però a mio parere è anche giusto portare rispetto alle vittime da un lato e poi questi materiali non sai mai dove sono stati presi, devi sempre comunque moderare quello che viene mandato e quindi è un po' un casino e quindi già avevamo limitato da quel punto di vista. Potevate mandare messaggi fino a qualche minuto fa e siamo contentissimi in realtà che c'è stato questo grande afflusso di persone ai gruppi Telegram. C'è stato di supporto tantissimo, specialmente agli albori di Deepen, ma in questo momento è diventato ingestibile. Ingestibile sia per la quantità di messaggi che sono oggettivamente impossibili da leggere tutti per due persone o anche per gli admin che comunque è vero che sono stati fatti admin del gruppo ma hanno un lavoro, hanno altre cose da fare, hanno tutta un'altra serie di impegni e non possono certamente star dietro a Deepen gratuitamente oltretutto che quindi è un favore che fanno a noi e a voi per mantenere il gruppo pulito ma non è assolutamente un loro dovere e per noi quindi che sarebbe il nostro il dovere perché il nostro gruppo è infattibile, non abbiamo abbastanza tempo per riuscire a gestire tutto quanto. E quindi da questo punto di vista Instagram ci tutela in qualche modo perché comunque quello che viene detto su Instagram è responsabilità di chi scrive, quello che viene postato è responsabilità di chi posta e quindi noi siamo felici di accogliere tutti i vostri commenti delle puntate, tutte le vostre idee sulle ricostruzioni o commenti sulle puntate di Deepen Scienza ma purtroppo Telegram non è più il canale giusto per noi perché siamo diventati veramente tanti. No ma poi c'è anche un discorso secondo me in maniera di tutto trasparente che ci sono dei social che ci permettono di crescere e dei social che invece non ti fanno tanto crescere e Telegram è un social, non si sa più neanche se si possa definire social, che in realtà non ti fa crescere, non ti fa diventare grande. E quindi invece Instagram potenzialmente sì, TikTok che c'è, non c'è, sì e quindi dobbiamo, e questo è un discorso che solo in, che si fa, che voglio dire che tutti i creator fanno, no, di come quando uno fa una sponsorizzazione che deve giustificarsi perché ha guadagnato 100 euro per dire che quella crema è bella, no, però il discorso poi è lì, cioè nel senso che se questa cosa non è redditizia, non ha, ovviamente il Deepen è redditizio fino a un certo punto, però diciamo che in prospettiva possa essere più redditizia, capite che tutte le settimane mette fuori una puntata gratis con tutte le menate che uno ha nella sua vita normale, un po' uno si fa delle domande, dice ma a senso non ha senso, continuano, continuano, e quindi l'idea è che si continua a patto di provare a crescere, provare a farlo diventare una realtà vera e propria, cosa che in questo momento ancora non è. E per crescere, per diventare grande e tutto quanto serve che Instagram dia dei certi numeri, serve che YouTube dia degli altri numeri, serve che tutto quanto diano dei numeri diversi, questo in maniera di tutto trasparente perché non c'è assolutamente nulla di male nell'essere ambiziosi e nel non limitarsi a fare la puntatina così una volta ogni tanto che uno può fare normalmente. Sì, no, ma infatti questo è un altro punto molto importante, per noi è vero che il gruppo Telegram era figo, è vero che all'inizio ci ha aiutato a crescere, in questo momento abbiamo bisogno, è necessario per noi riuscire a farci un nome sui social, che non è una questione di orgoglio, come diceva Palla, è una questione proprio di necessità perché o rimaniamo in questa nicchia di piccolezza e non lo dico, diciamo, sminuendo o facendo quello che vuol fare il finto, come dire, il finto modesto, ma se vogliamo, insomma, crescere, strutturare Deepen, creare qualcosa che sia oltre lobby, abbiamo necessità di generare un profitto. Questo profitto si fa tramite i social, si fa tramite le visualizzazioni su YouTube, tramite gli iscritti su YouTube e chiaramente gli ascolti che comunque facciamo ma che tutt'oggi il mondo del podcast purtroppo non riconosce, non c'è un'evidenza che fa dire come il numero di, cioè non c'è il numero paritario al numero di follower di Instagram barra iscritti su YouTube che fa dire a un'azienda sì, investiamo su Deepen perché loro valgono e quindi dobbiamo necessariamente piegarci a questa modalità. In realtà non mi dispiace neanche, cioè se questo è il gioco dobbiamo giocare secondo le regole e dobbiamo far sì che questa cosa genere un profitto per poter prendere un'altra persona che si occupi di fare per bene i social, che si occupi di fare per bene i reel, che se state seguendo YouTube da un po' vi sto facendo io, ma ovviamente sono qualcosa di casalingo e che ovviamente non può proseguire in questa maniera. È necessario che ci sia un professionista dietro, un professionista va pagato. Far l'asseo delle puntate serve un altro professionista, questo professionista va pagato. Purtroppo sono tre anni ormai che facciamo Deepen e per quanto sia un hobby, è un hobby che occupa tanto tempo, che ci occupa tanto la testa anche, un impegno importante, e vogliamo che diventi qualcosa di interessante perché altrimenti rimane un giochino. E purtroppo Telegram non ci dà possibilità di svilupparci da questo punto di vista e quindi per noi... No, anzi, crea un ambiente tossico in un certo senso Telegram, no? Perché poi danno tutta la libertà possibile alle persone, cosa che noi siamo felici di dare tendenzialmente, si creano ovviamente situazioni bellissime, ma anche situazioni spiacevoli o comunque... Anche perché poi essendo un social scritto, no? Si creano anche dei misunderstanding, io non capisco te, tu non capisci me, io mi incazzo, tu ti incazzi, no? Perché poi sicuramente l'80%, il 90% dei litigi, sto facendo le virgolette per chi ascolta, in realtà poi fossero avvenuti di persona non sarebbero neanche stati litigi, magari ci sarebbe stata una risata, però c'è sempre questo ambiente in cui, e tanti me l'hanno scritto, non si è invogliati a parlare, non si è invogliati ad aprirsi. Infatti i numeri ci dicono che tanta gente esce, cioè tanta gente entra ma tanta gente esce proprio perché è diventato un luogo in cui le persone non si trovano più così tanto a loro agio, secondo me. E quindi adesso lo mettiamo in pauta, non è detto che non lo riapriremo mai, nel senso che magari lo riapriremo dei periodi, piuttosto che delle singole giornate, o delle singole settimane, o dei singoli giorni ogni tanto. Però diciamo che vogliamo provare, perché poi chiaramente è un esperimento, no? Nel senso che nel momento in cui ci accorgiamo che manca quella flusso di commenti, cioè ci vuole un tasto per riaprirlo, quindi non uscite dal gruppo, no? Però diciamo che quello che diceva Andrea è assolutamente corretto, nel senso che i piani per Deepen sono tanti, sono belli, sono positivi. Io, così come Andrea, ci occupiamo e vorrei occuparmi, ecco, diciamo, in un Deepen più organizzato della parte più creativa, cioè di pensare alla puntata, a creare la puntata, a creare dei contenuti, pensare dei contenuti, più che a pubblicizzare. In primis perché non sono capace, in secondis perché non me ne frega nulla, cioè non è quello che mi interessa, no? Sì, questo è un punto fondamentale, cioè ad oggi Deepen per me è scartabellare modi per far conoscere Deepen e vorrei che questo sia il lavoro di qualcun altro, perché io non ho tempo per, cioè, è un anno che voglio creare un nuovo Deepen, che ho in mente, ho delle puntate scritte di un nuovo Deepen, non posso farli perché hanno il tempo di farli, perché dietro la puntata, è vero che voi vedete un'ora di puntata, dietro ci sono 4-5 ore di preparazione, 6 giorni magari, perché magari ti viene un'idea e un giorno scrivi 2 ore 2 cose e il giorno dopo ne scrivi altre 2 ore, magari leggi un articolo, allora devi scrivere ancora, poi ti devi informare, poi devi fare fact checking, devi controllare di non dire cazzate in live, sia di crimini che di scienza, perché, cioè, voglio dire, quello che viene detto è valido sia da un punto che dall'altro, ma, cioè, banalmente andare a cercare i libri da leggere per fare Deepen giallo, leggere il libro mi occupare il tempo, che magari avrei occupato facendo qualcos'altro. No, ma esattamente questo, guarda, io faccio sempre questo esempio della lettura dei libri, nel senso che a me piace un sacco leggere i libri e tutto quanto, ma io spesso, quando leggo un libro, adesso sto leggendo un libro che si chiama Endurance, una storia dell'esploratore dell'Antartide, no? E ogni tanto mi sento in colpa quando leggo, che dico, cazzo, potrei leggere qualcosa di crimini, potrei leggere qualcosa, potrei leggere una sentenza, potrei, cazzo, questa mezz'ora che sto leggendo al posto di Shackleton della sua storia, cazzo, se mi leggessi quel verbale là, no? Però non è, non deve essere secondo me questo, no? E quindi su questo sono al 100% d'accordo con te. No, certo, ma poi il problema è che, fatto anche quello, poi c'è da fare, sistemare la live di YouTube, perché hai bisogno tagliare fuori onda, e poi c'è da mettere i tag, e poi c'è da scrivere la descrizione, perché? Perché se non ti si incura nessuno, allora tanto vale non fare la puntata, quindi devi fare tutto per bene, se fai tutto per bene ti occupa del tempo, e tutto questo è lavoro che dovrebbe fare qualcun altro, non perché io sia al di sopra di questo mestiere, ma perché ho deciso di fare Deepen per fare Deepen, non per fare back office, perché se no mi facevo pagare per fare back office, e quindi vorrei tornare anche alla possibilità di poter fare Deepen in maniera più creativa, come dicevi tu. Poi secondo me Gianluca fa un commento interessante, che dice che questa cosa è fatta solo perché Telegram non monetizza, beh sì, non ci nascondiamo dietro un dito, te lo stiamo dicendo già da prima, il fatto che Telegram non monetizzi per noi è un problema, perché noi non possiamo avere un collaboratore, noi non possiamo avere uno studio, che banalmente ci permetterebbe di fare delle interviste su Deepen Giallo, invece di essere sempre io e Palla, e fare la puntata autoreferenziale, dove noi parliamo di Deepen e basta, e con le nostre idee basta, perché non posso invitare qualcuno qua, in camera da letto, in camera mia, chiaramente ci deve essere un certo livello di professionalità, per esporsi magari a chiedere un'intervista a un giornalista, o a un professionista medico, o a, che ne so, a un magistrato, no? E chiaramente noi in tutto questo siamo limitati anche dai guadagni, perché non possiamo in questo momento con Deepen pagare uno studio che ci limita. Esatto, anche io volevo rispondere a Gianluca, no? Proprio come poi ha risposto anche Francesca, che sotto su YouTube, io vedo in tanti canali che seguo di YouTube, delle conversazioni che avvengono, no? sotto YouTube. Certo, sono d'accordo anch'io, come dice lui, che Telegram è più comodo, no? Perché Telegram è un WhatsApp, no? Però Telegram ha due problemi, secondo me. Primo, non monetizzarsi, ma non che su YouTube guadagniamo milioni di euro. Cioè, monetizzare, secondo me, non è la parola giusta, perché nulla monetizza in realtà. A parte le sponsorship, che quelle sono l'unica cosa che un po' monetizzano, ma nulla monetizza. Cioè, anche la pubblicità che sentite all'inizio della puntata su Spotify, cioè, non pensate che ci paghiamo, ma neanche la connessione internet di una casa normale, cioè, nel senso, quindi non pensate che il monetizzare, voglia dire, sicuramente non crea engagement. Cosa vuol dire non crea engagement? Che un post o un video su YouTube che ha 100 commenti ha un valore, un post su Instagram che ha 100 commenti ha un valore, un canale Telegram che ha 8000 commenti, non ha valore. Questo è il problema. Cioè, ma valore non economico, cioè, non di soldi che entrano nelle nostre tasche, ma di valore del brand, no? Di valore di quello che vale Deepen. E questo è sicuramente così. Quindi, quando parliamo di monetizzare, sicuramente, il discorso è farci conoscere un pubblico più ampio possibile. È chiaro che, faccio un esempio, faccio sempre solito esempio per farvi capire, chiamo che Joe Rogan non gliene frega nulla di farlo. Lo conoscono tutti, non... Cioè, è difficile che arrivi a nuove persone o comunque ci arriva in vie traverse. Noi siamo piccoli, quindi abbiamo bisogno davvero di un... di un turnover di persone costante, no? Che vanno ad ascoltarsi. Io dico sempre che una delle... Sempre nella top 5 delle puntate del mese c'è la prima puntata di Meredith. Cioè, la prima puntata della storia di Deepen. Perché la gente magari sente una puntata che gli è piaciuta e dice, ah, riparto da zero. Vede che ci sono 130 puntate e riparte da zero. Quindi questo turnover continuo ci permette comunque di avere 7 persone. Quindi è vero che lo facciamo per monetizzare, ma non per monetizzare come... Perché sennò si resta sempre la gente, ah, voglio i soldi. Io si li voglio. Cioè, tra l'altro, se arrivano io li prendo. Non è che dico i no, anzi. Ma non è quella questione. È una questione di farci... Di diventare grandi in modo che poi si possono fare un sacco di cose fighe. E di progetti fighi ce ne sono tanti. Io adesso non... Sapete che sono in ballo con Perugia e vorrei portare dei contenuti, magari scritti, magari audio, magari video, sul caso Mervit, perché c'è delle cose che... Eh, quelle cose si possono fare con un budget, con gente che lo sa fare, con qualcuno che te lo scrive, con... Cioè, però serve avere una struttura di un certo tipo, quindi... Sì, sì, ma forse non mi sono spiegato bene, ragazzi. Io quando parlo di monetizzare non intendo di portarci a casa i soldi, perché non voglio fare il paraculo, ma adesso ve lo faccio vedere. Ma questo è quanto abbiamo guadagnato su YouTube. 6 euro, lo vedete? Cioè, capite che noi non stiamo parlando di soldi, perché io con questi 6 euro li ho spesi stamattina facendo colazione. Io sto parlando di credibilità. Sto parlando di avere dietro una community che ci permette magari di scrivere a un giornalista che ha trattato in maniera approfondita il caso Meredith, per esempio, nel caso di Palla. O a media di poter andare da un primario e dire, oh, guarda che io ho tot gente che mi ascolta, guarda che possiamo fare qualcosa di figo, magari cambiare le cose su un argomento che vi sta a cuore, che ne so. Visto che, prendo l'esempio di ripenscienza, così sto, insomma, nelle cose che conosco bene, c'è la puntata sulla sindrome di Tourette. So che ci sono tante associazioni che parlano di sindrome di Tourette perché è una malattia molto poco conosciuta. Io, in questo momento, con i numeri di ripenscienza, non è che posso andare a bussare al massimo esperto della sindrome di Tourette e dire, oh, vieni a parlare in D-Pen, facciamo un'intervista. Cioè, o non mi risponde, o mi risponde, ma chi ti si incula? Cioè, queste sono le due risposte possibili che posso ricevere. Avere un pubblico alle spalle ci permetterebbe di migliorare in maniera molto importante anche la qualità del podcast. E poi, chiaramente, la questione monetaria, come dicevo prima, non è assente in assoluto, però anche quello ci permetterebbe di avere comunque una credibilità. Perché avere uno studio, perché avere una persona che lavora è diverso. Infatti, ma poi è una questione di qualità, no, dei contenuti, perché poi più possibilità hai. Cioè, guardate, il più grande youtuber al mondo, no, MrBeast, che spende un milione, un milione, due milioni di dollari in teo, no? Perché per fare dei contenuti di quel tipo devi metterci soldi. E allora, a quel punto, è chiaro che se hai un budget di, noi abbiamo un budget di zero, ma se avessi un budget di, dico una cifra stupida a caso, è mille euro al mese, allora già sai che tutti i mesi ti entrano, però non che entrano a dicembre perché è il mese buono. Allora sai, puoi pensare di fare delle cose diverse, delle cose più serie, più professionali, e che poi piacciono di più al pubblico, sempre con lo stile di Vipen, ma più interessanti. Comunque io direi che l'argomento l'abbiamo sufficientemente spiegato, quindi direi che non dobbiamo spiegarci, oltre anche che dopo un po' la gente dice, ma va bene, è un problema vostro. Sì, no, questo era il punto, però volevo solo far passare il messaggio che comunque ci sono i post di Instagram dove, come leggo nei commenti, c'è l'argomento limitato, quindi diventa anche una roba un po' più, come dire, concentrata su quell'argomento, i commenti sotto a quel post o sotto a quel video, diventa una roba che, con un topic, invece di parlare sempre a caso delle stesse cose sul gruppo Telegram. Anche perché è un altro fenomeno che si è visto più volte, ormai da tre anni a questa parte, è che entra gente nuova, chiede, che ne so, al DNA di Bossetti, visto che questa settimana di nuovo si è scatenato il puttifere sul DNA di Bossetti, giustamente con la puntata, però ne abbiamo parlato sette milioni di volte. Capite che se uno mette un bel commento fatto con la testa, centrato, su cui ci sono risposte centrate, anche quelle fatte con la testa, sotto un video, quello diventa arricchimento all'argomento e non parole a caso buttate in un gruppo che, sì, possono essere divertenti, possono essere veloci, possono essere quello che volete, però rimangono un po' al vento. E quindi... No, ma infatti, secondo me, sia su YouTube che su Instagram c'è possibilità che chiudendo il canale Telegram, la possibilità di scrivere su Telegram, ci si possono essere delle discussioni. Ovviamente, io lo dico anche a chi scriveva delle cose in privato, su Telegram potete ancora scrivermi senza problemi, su Instagram, su secondo Wallman lasciare un messaggio privato, ovviamente non rispondiamo sempre, quindi in realtà cambia fino a un certo punto, anche perché poi noi nei dati che abbiamo le persone attive su Telegram erano relativamente poche attive che scrivano un messaggio, poi immagino che tante persone leggessero, però, voglio dire, pazienza. Dai, che libro hai letto di bello? Basta, non so, tutti i coglioni di parlare di questa roba, no, in realtà, non so leggere un cazzo, volevo proporti un altro argomento, sempre a tema di Ipen, che siamo in dirittura d'arrivo per i due milioni di ascolti, quindi, due milioni di ascolti, applausi, grazie ragazzi, che ci sostenete sempre con i vostri ascolti, e ho pensato... Spreakerci da... Spreakerci da... 2 milioni di euro bonus, eh, ah no, si, caccio nel culo bonus, eh, no, volevamo... Io voglio una targhetta, qualcosa, eh, potevamo fare targhette come quelle di YouTube, una gioia, una gioia, ma in plastica brutta, non è che dico tanto, è giusto per appendere la sui coli. No, si pensava, si pensava, e lo sto dicendo al nostro pubblico, spero che parla, ti ricordi, di organizzare un evento. Quindi, fateci sapere cosa ne pensate, primo, secondo, l'evento sarebbe a Milano, questa primavera inoltrata, immagino. Sì, primavera estate. Sì. E... primavera estate autunno, diciamo, non è inverno, esatto. Non adesso. Se volete, se vi intriga la cosa, vederci, fare un po' di cacciare insieme, ditecelo, così noi ci organizziamo, troviamo un posto, troviamo... Diciamo che avevamo questa mezza idea di aspettare un posto e adesso puoi capire tutte le dinamiche, non è facile, però aspettare un posto e fare una puntata live, sia di Deep in giallo che di Deep in scienza che ovviamente di Deep in crimini. Quindi, non so, magari fare prima una, non so, prima il giallo, poi scienza, poi crimini, o prima una, poi l'altra, poi il giallo, alla fine insieme, cioè una roba così, comunque di fare delle puntate in diretta, visto che tanto le facciamo sempre in diretta, quindi in realtà ci cambia poco, però con delle persone in carne ed ossa e quindi poi con, ovviamente, un Q&A live, niente di incredibile, cioè niente di... Però, boh, no, giusto per dare un volto a questi nomi, a questi numeri, che, esatto, insomma, ci piacerebbe, ci piacerebbe vedere, ci fare un po' di cacciare insieme e secondo me quest'estate siamo abbastanza maturi da poterlo fare, quindi per i due milioni secondo me è un buon, è un buon obiettivo e chiaramente sarebbe a Milano e perché noi siamo qua e tra l'altro anche il grosso dei nostri ascoltatori sono a Milano, quindi sarebbe più comodosi. Poi diciamo che, esatto, è più comodo nel senso che credo che sono delle città più raggiungibili tendenzialmente d'Italia, anche se qualcuno pazzo scatenato vuole dire dalla Sicilia viene su e Pietro sicuro. In qualche, in qualche esatto, in qualche modo, in qualche modo ce la fai. Quindi, sì, diciamo questa è un po' l'idea, sarebbe, sarebbe sicuramente molto molto bello e un po' la cash, il mio podcast, quando fa le live, quando fa i podcast in diretta e niente, fa un po' di casino e ci divertiamo secondo me. Sì, comunque Dora, io pensavo volesse organizzare una bevuta in una conferenza, in realtà è un po' una via di mezzo, un ibrido diciamo. facciamo prima una poi l'altra con gara di rutti finale anche, mi hanno detto dall'altro via. Esatto. No, invece ho un altro tema interessantissimo, questa volta la sventiamo di parlare. Anche perché questo era molto interessante, però mi sembrava abbastanza circoscritto, se posso criticare il tuo tema, mi sembrava abbastanza. No, adesso volevo... Cioè, come dire, mi sono tagliato i capelli, capito? No, ecco, non mi sono tagliato i capelli, quindi questa settimana taglierò i capelli, se vi riconsigli sul taglio, perché questo non si può vedere. Only Fans. Lo apriamo. No, no, non so, Only Fans così mi hai un po'... Cosa ne pensi? Perché volevo fare una puntata di Deep in Scienza, attenzione, e magari anche di Giallo, che sarà molto probabilmente questa molto breve, a proposito di Only Fans. Sei attonito? Distrutto? No, no, non aspettavo, sì. No, ma ti dico anche il perché, ho visto un... Esatto, magari dammi un contesto un po' più... Ho visto un reel di un... di una specie di video podcast che non so bene, con il fratello della Parodi, mi sembra, quello che fa... che adesso fa l'influencer su... Ah, sì, 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 ho capito, sì, 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 che ha fatto... No, era di un... era nel podcast bazar post... bazar podcast, ho visto anch'io. Io ho visto solo il reel in realtà, non ho ancora spulciato il coso, però stamattina stavo pensando... Bella puntata, tra l'altro. Eh, infatti, me la andrò a vedere. E nel reel c'è il conduttore, che non so chi sia, poi andrò ad indagare chiaramente, che diceva, eh, ma ci sono già dei studi scientifici che dicono che OnlyFans fa male. No, anche un po' di cazzata. Esatto. Allora mi son detto, boh, ma andiamo a vedere, cioè, chiaramente non verranno citate le fonti nel podcast, immagino come... No. Suppongo, ma ho detto, magari se esistono davvero, sarebbe una puntata interessantissima di pen scienza, cazzo, un bel tema, finalmente, che tra l'altro, capibile da tutti, dove tutti possono, insomma, ragionarci un po' sopra, fare un po' di... di robe sopra, ma oggi non ho trovato una minchia. Ho perso due ore. No, ma non c'è. Allora, lì, ti dico io due cose su quella... Perché io vi sto a puntata, quindi ho visto un pochettino prima e un pochettino dopo. Lì, secondo me, lui non voleva dire ricerche scientifiche. Ah, ok. Secondo me, lui voleva, a darsi un po' di... Cioè, non voleva dire una mia idea. Perché dice giustamente chi cazzo sei, no? Perché siccome oggi, su qualsiasi cosa, All'altro giorno, mi ha scritto uno su Telegram, su Instagram, no, su Telegram mi ha scritto, mi fa... Tu sei genetista? Mi ha scritto, ma tu sei genetista? E io ho scritto, no. E allora che cazzo fare il DNA di Bossetti? Ma cioè, va bene, allora uno, se non è genetista, non può parlare di quello, non si può fare niente. No, però, capisco, ci sta. E secondo me, lui non voleva dire ricerche scientifiche, perché anche io, quando ho detto ricerche scientifiche, mi ricordo il momento in cui l'ho sentito, ho detto, ma che cazzo ti dici, ma perché? Ma anche perché, come la fai la ricerca scientifica? Cioè, prendi 100, di OnlyFans, e dici, prima avevi disturbi mentali, adesso no, sono... è difficile. Secondo me lui voleva dire questa cosa, cioè che OnlyFans su il creator, quindi su il ragazzo, la ragazza che si espone su OnlyFans, ovviamente lui stava parlando di contenuti espliciti, e non io che faccio le ricette della carbonara, cioè io che faccio vedere tutto me stesso, o una ragazza che può vedere tutto se stesso, esatto, contenuto esplicito, in quel caso potrebbero esserci dei danni a lungo termine, diceva lui, poi non so a che danni si stesse riferendo, perché non gli metto ovviamente parole in bocca, anche a livello psichico. Lui cita, perché nel pezzo che diceva, lui cita le ricerche scientifiche che ovviamente, ovviamente, io non ho guardato, devo dire, però ho pensato, chissà che cazzo, chissà il ricercatore di Stanford che si è messo a fare sta roba, secondo me non c'è. Però ti dico la mia su OnlyFans, se vuoi. Dimmi, dimmi. Allora, io sono un po' combattuto sulla questione, nel senso che da una parte io sono un fan del, se il mercato chiede una cosa, qualcuno glielo deve dare. No? Cioè, se c'è una richiesta da parte, e ovviamente se ci sono dei soldi che i consumatori vogliono dare a qualcosa, no? C'è una domanda, arriva l'offerta, a me sta bene. io ti dico la verità su OnlyFans. Io sono sconvolto, perché io mai, questo denota la mia stupidità, mai, mai andrei a pagare dei soldi per vedere una ragazza nuda, io e ragazza, nel mio caso, che mi piacciono le ragazze, ovviamente la stessa cosa è applicabile al mondo femminile nei confronti degli uomini, a vedere una ragazza nuda, o a pagare un sacco di soldi perché lei mi dica mentre è nuda, Luca sei bellissimo, insomma, avere un contenuto personalizzato di una ragazza dove mediamente se io voglio vedere una donna nuda, che tanto fa anche attività sessuali, di solito piuttosto carine, è tutto gratis. Cioè, mi sfugge questo passaggio. Poi capisco che ognuno abbia dei suoi feticismi, delle sue passioni, io non so, anzi, ripeto, da una parte, c'è una richiesta di mercato, c'è gente che guadagna un sacco di soldi, bravissimi loro, avrei voluto farlo io, ok. Dall'altra invece, quindi su questo sono assolutamente inovorevole, sono invece un po' più scettico, ho un po' paura del messaggio che arriva ad alcune fasce di popolazione. Cioè, io sento un po' a scuola, io a scuola sento da un paio d'anni a questa parte, due fenomeni, secondo me, è il punto di vista dei ragazzi. Io sento i ragazzi che parlano di due fenomeni, da una parte il trapper, no? Cioè, il Pachi, il Fiva, quello che canta, adesso io sono un boomer, quindi non me ne ricordo. Comunque, questi qua che fanno una canzone, due canzoni famose e vanno in gioco con Lamborghini, poi che a Lamborghini sei in leasing o un affitto a Giovedè, fa niente, però, capito, c'è quell'idea lì, cioè faccio una canzone e sono arrivato. Dall'altra, ogni tanto sento, ma ripeto, tanto è una cosa che io bigottamente pensavo soltanto dalla parte femminile, invece maschi esattamente uguali, anzi forse peggio, ma tanto mi aprono i fans, che è vero che viene detto ridendo ai ragazzi a scuola, però sai, è quella risale a 15 anni ridi, però non lo sa mai e so di ragazze a scuola che hanno i fans. Io so, questo me l'hanno, lo so perché purtroppo ci sono delle cose che dobbiamo sapere di ragazze maggiorenni, ma di ragazze che nella mia scuola vendono foto o se, adesso io la qualità non la so, su all'infanzi. Mi spaventa il concetto di guadagno facile e veloce a quell'età, quindi un'età dove sei giovane, 18-24, 18-25, perché sai, tu immagina una situazione per cui sei un ragazzo o una ragazza di 20 anni, magari non stai studiando, hai avuto un passato scolastico un po' così, stai cercando la tua strada nel mondo, no? E va benissimo, anzi, per credere di Dio. Diciamo che sei carino, inizia a vendere delle tue foto su Allifanz, come tanto vi sono servizi delle Iene recentemente, qualche tempo fa sulla cosa, e da perfetto sconosciuto, inizi a guadagnare 7-8-10 mila al mese e ti convinci che questa sia la vita. Sì. Cioè, perché poi uscire da questo discorso e dire, guarda che la vita tendenzialmente non per tutti è questo, poi magari io ti auguro che lui vedi tutta la vita, però tendenzialmente temo di no, immagini che guadagnare tanti soldi facendo poca fatica e io uso una parola brutta adesso, però non meritandoseli, perché poi è vero che te li meriti, perché se qualcuno te li dà te li meriti, però diciamo usando una scappatoia in un certo senso, secondo me a livello psicologico e a livello cioè per tante persone può essere poi, può avere un contraccolpo futuro piuttosto piuttosto importante. Questo però è un mio pensiero basato sul nulla cosmico. La mia opinione su OnlyFans è che rispondere a una richiesta che il mercato fa lo fa in maniera giusta, perché se funziona lo fa in maniera giusta e chi vuole pagare dei soldi per vedere la vicina di casa nuda se la vicina di casa fa dei contenuti su OnlyFans è libero di farlo. Io a me sembra una roba fuori dal mondo completamente che devo pagare per venire una per cui gratis ne vedo una più bella però ragazzi il mondo è bello anche io non capisco bene la questione del porno a pagamento quando c'è quello gratis però vabbè questa è una roba un po' da consumatore come se avessi l'acqua gratis in casa e andassi a comprarla uguale o peggiore al supermercato ma a parte da consumatore io non sono tanto scandalizzato della presenza di OnlyFans a me frega un cazzo alla fine per me lo reputo allo stesso livello di altri siti pornografici anche di qualità migliore o peggiore non è importante mi spaventa come dicevi tu la questione del soldo facile che oggi su insomma al giovane è facile parlare col soldo in mano cioè a fargli annusare soldi che magari il padre guadagna in un anno un anno in una settimana è quello che dico questo vale anche su youtube questo vale anche su youtube su twitch cioè questo vale in generale nel web secondo me è il problema poi su OnlyFans cioè qual è il problema che sul web se tu vuoi farlo youtuber e guadagni un sacco di soldi devi avere cioè non puoi vendere il tuo corpo devi vendere la tua creatività poi può non piacerti una cosa vabbè non la scordi però lì invece puoi usare l'escamotage di essere un bel ragazzo una bella ragazza e venderti venderti non lo dico anche qui in termini dispergiativi cioè vendere però una tua parte anche intima se vogliamo che poi sai fai fatica cioè che poi non puoi più arrivare indietro perché poi una volta che lo fai per un anno e hai guadagnato centomila euro sto sparando di cifra a caso è vero che hai centomila euro però hai dato via una cosa che non puoi più riavere indietro sì ma secondo me non è neanche tanto cioè tu parli di riavere indietro la tua immagine o la tua dignità che cosa cioè perché probabilmente delle Holyfancers non so come si chiamano o degli Holyfancers del 2023 fra dieci anni non si ricorderà più nessuno cioè io non è che fra un tot mi ricorderò di quello che ha fatto Holyfancers cioè che cazzo lo conosce se lo incontro per strada neanche lo riconosco no certo però sai che sono le tue foto di te nuda o nudo che fai sul web io ti dico la verità preferirei che non ci fossero delle mie foto sul web dove faccio delle cose per cui magari a 50 anni mio figlio dice papà scusa un attimo ma questo momento della tua vita cioè eri così al canale del gap cioè preferirei poi ripeto questa è la mia sensibilità se c'è una ragazza che ha 20 anni non ha niente di meglio da fare o banalmente vuole comprarsi una borsa di Prada da 3000 euro e decide che al post che lavorare tutti i weekend nel bar di famiglia decide di fare quella roba ma sì io ho due paure grosse rispetto a Onlyfans che in realtà cioè si parla del fenomeno Onlyfans perché adesso è di moda questo ma in realtà cioè Pornhub c'è sempre stato e da sempre ci si può iscrivere gratuitamente fare dei soldi gratuitamente cioè Danica Mori e il fidanzato qualche anno fa hanno fatto questo cioè si sono iscritti a Pornhub hanno iniziato a caricare i video sono diventati famosi e hanno fatto un sacco di soldi va bene c'è sempre stato questo fenomeno ma oggi è forse è arrivato a un target più giovane che non ci aspettavamo e quindi ha fatto un po' scandalo no però in realtà i modi per guadagnare col porno ci sono sempre sempre stati certo forse non è mai stato così facile sì non è mai stato così facile però chiaramente evolvendo le tecnologie cioè avendo ormai tutti la fotocamera in 4k nel telefono chiaramente fare un un video per sbaglio che che puoi caricare anche dal punto di vista qualitativo magari più facile non so poi ti distacca un po' il telefono non è la videocassetta che devi registrare andare a portarla al produttore pornografico che te la pubblica che te la vende quindi chiaramente il telefono rende tutto più immediato mi spaventa di più il fatto che è arrivato tantissimo ai giovani cioè a gente che chiaramente per 10.000 euro darebbe probabilmente via la madre perché perché il giovane è fatto così perché perché io sono stato fatto così e adesso probabilmente hanno maturità per via alle 18 anni ci sta che ti dicono tino 10.000 euro se ti faccio un video mentre fai questa roba sì ma forse anche la foto dei piedi cioè oggi a 30 anni non lo farei a 18 anni fia altro che piedi avrei fatto le foto anche ti danno 100 euro se mi dai 100 euro se ti do le foto dei piedi ma io ancora adesso cioè cazzo me ne frega esatto quindi è molto mi spaventa un po' la facilità di quello mi spaventa tanto che sia diventato cioè in questo clima del non si può più dire niente e del politically correct e del non si può dire che fa la mignotta fa sex worker sia insomma il nostro corpo l'ultimo oggetto da poter vendere cioè la fine proprio del consumismo fino all'osso dove hai venduto tutto tutto si può vendere tutto si può comprare l'ultima roba che ci resta cos'è il nostro corpo e la nostra dignità e OnlyFans lo sta a mio parere facendo quindi questa cosa mi spaventa tanto anche perché poi le ripercussioni come dicevano in quel video lì magari non riusciremo a calcolarle scientificamente ma probabilmente ci saranno cioè non credo non credo che tutto questo sia un nulla di fatto cioè ma sì il mio corpo che cos'è un pezzo di carne perché dietro al tuo corpo c'è sì la vendita del corpo ma c'è anche la vendita del tuo essere della tua dignità del tuo della tua persona e comunque oggi nella ricerca dei problemi anche psicologici delle sex workers al di fuori dell'ambito OnlyFans ho trovato delle ricerche che dicono che chi lavora in quest'ambito ha delle difficoltà oggettivate scientificamente nell'avere relazioni con un altro col partner col coniuge e quindi non è proprio vero cioè il sesso è una questione un po' strana perché è vero che puoi mercificare una parte del tuo corpo e dire ma sì è soltanto un seno è soltanto un piede è soltanto un clitoride o è soltanto no no io sono d'accordo su un discorso sono d'accordo su un discorso che io l'intimità non la venderei esatto venderei un'intimità emotiva no per me non c'è niente di male ti faccio un esempio stupido di uno che tra l'altro con cui non siamo molto amici di Fedez quando lui parla dei suoi problemi davanti a 15 milioni di persone perché è il suo pubblico io non ho nulla da dire nel senso che secondo me se tu hai un pubblico che possono essere mille persone 5 persone o 15 milioni sei triste per un qualsiasi motivo perché ti hanno trovato un tumore perché c'hai il rebound delle medicine perché per qualsiasi cosa e ti metti a piangere in una live su Instagram io non ho niente da dirti nel senso che secondo me ci sta ma da un punto di vista fisico secondo me o proprio di sessualità più che di fisico io lì ci starei un po' più attento perché secondo me lì entrano in gioco delle dinamiche che mi piacciono un po' meglio però ripeto ma se cosa forse non è neanche tanto la parte fisica o appunto il seno eccetera eccetera o le gambe insomma a me per esempio a proposito di Fedez visto che l'hai citato lo vedo tanto paritario quando ha pubblicato le sue sedute dallo psicologo cioè quella l'ho vista io come una ti stai vendendo proprio tutto ma anche l'anima in cambio di cosa della notorietà o dell'essere vero a tutti i costi sui social cioè non credo che fare l'influencer benefici del tuo assoluto azzeramento della privacy no però lo decide lui sai nel momento in cui una sua scelta libera di pubblicare sui sedute dallo psicologo così che una mia scelta quella di non ascoltarle certo no non le ho sentite ma non me la sento neanche di dire no però dico non mi sento neanche di dire oddio guarda questo qua che si vende anche anche perché sì che popolarità in più ti danno cioè a quel livello lì poi capisco invece l'influencer è un po' più piccolino che si vende però anche lì ti ripeto Andrea io sono dell'idea che è difficile dare un giudizio su questa cosa proprio un giudizio morale su questo io sono proprio dell'idea che sono più in questo caso uno sporco capitalista dal punto di vista che il mercato vuole questa ma tu gliela dai poi aspetto morale tanto tanto c'è sempre qualcuno che ti può dire ma capito che te la può già in un modo o nell'altro non ho molto non lo so sì sì ma il mio intento cioè io anch'io in realtà non è che ho le idee molto convinte sulla questione morale anche perché io ho una morale tu hai una morale chi ci ascolta ne avrà un'altra e ognuno c'ha la sua e va bene io come non ho fatto Pornhub prima il creator su Pornhub non lo farò su OnlyFans perché la mia morale me lo impedisce e quello mi interessa relativamente era solo per ragionarne un po' c'è un'altra cosa però che mi spaventa tanto che però non deriva da OnlyFans come detto c'era anche prima nel mondo del porno comunque dell'hard non so adesso qual era il termine politically correct per dire porno quindi accettatelo così visto che stavo pensando a portare questa puntata su Deep in Scienza ho cercato degli inghippi cioè non volevo fare la puntata filosofica dove io faccio il bacchettone dico no ragazzi non fate il porno perché poi ve ne pentite cioè sono cazzi vostri e dei vostri genitori e di chi per essi stavo pensando proprio alle ripercussioni psichiatriche di una persona che può cadere nel porno come in tante altre cose in un momento di debolezza cioè il fatto che tu sia per esempio Luca Pallavedino adulto e cosciente in questo momento non vuol dire che tu lo sia sempre ah no assolutamente ci sono delle patologie come le persone borderline per esempio che hanno delle fasi in cui hanno un'eccitazione sessuale particolare ci sono delle malattie psichiatriche in cui l'eccitazione sessuale è uno dei sintomi quindi imprescindibile dalla malattia e quindi non derivante dalla coscienza o la volontà del paziente e quindi in questo senso dal punto di vista veramente scientifico io penso questa persona è un attimo che si iscrive a OnlyFans in questo momento ed entra in questo mondo senza volerlo cioè è sì certamente lui che accetta le condizioni di utilizzo è sì certamente lui che si fa le foto e pubblica è sì certamente lui che riceve il denaro ma non ha nessun tipo di tutela da quel punto di vista e quindi qui cioè stavo pensando un po' a questo problema perché comunque dall'altro lato non puoi obbligare una persona a non farlo perché sarebbe una limitazione della sua libertà chiaramente e quindi stavo ragionando un po' su questo su questo dilemma un po' etico-scientifico insomma cioè ci sono delle condizioni dove non è proprio la scelta etica e basta a decidere no no assolutamente però uno di quei problemi è come eticamente è giusto impedire ad un alcolista di andare dentro un bar non lo so però per i malati del gioco per esempio si dice spesso di fare non so se c'è già nelle macchinette o c'è all'estero non mi ricordo comunque il codice fiscale per poter fare le giocate cioè nel caso della ludopatia questo è previsto sì no ti dico la verità non lo so io sono sempre tendenzialmente per la libertà delle persone di far quello che fanno nel bene e nel male però capisco il tuo discorso cioè di aiutare cioè che può diventare un cosiddetto buco nero in cui entrano delle persone che non dovrebbero entrarci però questo ti dico la verità anche i social sono così cioè instagram è un buco nero per milioni di adolescenti nel mondo la scelta è la sessualità togli la componente di sessualità instagram per me è esattamente la stessa cosa per milioni di persone o tiktok è esattamente la stessa cosa io vedo ragazzi miei studenti che me lo dicono tranquillamente io non riesco a smettere di guardare i video su tiktok allora la domanda che dobbiamo farci è esiste un modo che per me è peggio perché mentre la sessualità capisco l'attrazione che uno provi per una sessualità giovane grande i video su tiktok su una fascia di popolazione giovane mi spaventano di più allora io ti dico è possibile impedire in qualche modo non lo so io avevo letto ho sentito una proposta forse estemporanea che però mi era divertita di mettere lo speed sui social cioè lo speed quello il nostro codice identificativo cioè che tu quando entri sui social sei identificato quindi innanzitutto sei responsabile di quello che ti scrivi pubblico e dici che già toglierebbe un po' di problemi e poi indirettamente si potrebbe appunto impedire alcune applicazioni io metto dentro il codice fiscale di una persona minorenne e quell'applicazione non la può usare al posto di dire si sono solo minorenne è vero che poi ci sarebbe il problema di dire per codice fiscale uso quello di mio padre di mia madre va bene però in realtà io ho proprio l'idea è che tutto quello che è su questi smartphone sia un possibile youtube nel mio caso quando ho tanto tempo libero ci sono dei giorni che si è un buco nero vacanza i primi giorni i primi giorni della vacanza che non niente da fare è un buco nero quindi non so da quel punto di vista così tanto mi interessava quello che diceva anche Dora che poi in realtà su su Holyfans noi abbiamo quest'idea che metto la foto nuda e guadagno un sacco di soldi in realtà poi ci sono poche come in tutti i social ci sono pochissimi creator che guadagnano tantissimi soldi che però sono quelli che fanno siccome nei podcast noi siamo probabilmente nel top 1% dei podcast ma in realtà non guadagno è un cazzo tristemente sono messa a piedi quindi no nel senso che sì come tutte le cose non è facile diventare diventare Onlyfans star però è il tentativo secondo me è il problema no cioè è il porci la speranza ecco che un po' mi disturba tra virgolette però sì la domanda secondo me fondamentale è quanto in realtà ti ripeto i piccoli fans i social in generale impattano sulle vite secondo me non tanto degli adulti su cui impattano e non impattano quanto su quella dei ragazzi ecco secondo me quella è una domanda che svia un po' dal tema però è fondamentale perché secondo me quello è il vero problema cioè i ragazzi di oggi se tu guardi i dati delle imbalse le prove nazionali e poi le paragoni a quelle degli altri paesi sono tutte in calo cioè tutti i paesi del mondo calano sistematicamente su lettura scrittura comprensione tutti calano anche in Finlandia che Finlandia è considerata diciamo la patria al migliore sistema di istruzione proprio a livello di risultati a livello di lettura inglese scrittura comprensione matematica tutto quanto la Finlandia è sempre migliore ma proprio per distacco e anche loro stanno calando e in realtà da dieci anni più o meno e non è che ci siano troppe altre spiegazioni al fatto che fino a dieci anni fa quindi quando più o meno andavo a scuola noi quindici anni fa sì ti portavi il cellulare ma il cellulare aveva un'attrattiva completamente diversa soprattutto il pomeriggio perché avevo che in classe ti mettevi dietro il banco e giocavi a Snake o giocavi al gioco ma il pomeriggio aveva un'attrattiva diversa oggi invece ha un impatto sulle vite dei ragazzi molto alto e questa è la cosa che ti dico la verità mi spaventa di più cioè vedere quando ti dicono consegnate i cellulari durante la verifica e ti dicono posso non consegnarlo devi fare la verifica no ma preferisco verlo vicino no cioè quando arrivi a quella dipendenza di gente che consegna la verifica prima così riprende il cellulare prima quando vedi gente che va in bagno perché almeno guarda il telefono quando vedi diventa una dipendenza gente che è dipendente da questa cosa ecco quella è la cosa che oggettivamente un po' mi spaventa forse basterebbe fare dei tipo delle settimane off tipo di vacanza obbligatorie non so spring break offline per farti capire che puoi fare meno la dopamine detox va bene andrea io devo salutarti perché devo andare via quindi ragazzi abbiamo dato un po' di news abbiamo parlato di un po' di cose anche interessanti immagino per voi da ragionare mandate commenti eccetera eccetera sul nostro instagram e sul nostro canale youtube quindi vi aspettiamo numerosi non non ci abbandonate che abbiamo sempre bisogno di voi e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di dipen scienze immagino o crimini o qualcosa o qualcosa